Buonasera. Ciao. Buonasera. Come va? Mi chiamo Angelo. Mi faccia che io ti conosco, no? Mi hai visto? Forse assomiglia a qualcuno, non lo so. Dal vivo non credo. Angelo. Angelo. Di cognome? Esposito Monacelli. Angelo Esposito Monacelli. Quindi o sei spagnolo o sei un nobile? Sono uno spagnolo napoletano nobile. Semi nobile. Sei spagnolo? Sono napoletano. Ma che ci fai a Torino? Sono venuto da giù, infatti ho fatto una traversata infinita. No, come sei venuto da giù? Da Napoli. No, da Roma in verità questa volta, perché ero di base a Roma e quindi ho fatto questa traversata dell'oceano per venire qui. Ci tenevo. Allora vai subito. Sono in rappresentanza dei General Brothers, non sono un singolo, quindi la band è General Brothers, un trio. General Proverse. Ok. È un trio composto da me, mio fratello che sta le tastiere armoniche a voce, è un batterista. E poi io scrivo in inglese. Ma è anche una chiavetta di quello che fate o no? Sì. Dammi la chiavetta intanto che mi scarichi anche la chiavetta. Ti do. E così... Io in verità ho portato anche una cosa per te. Questa è per te proprio. General Brothers, grazie. Eccoli qua, è General Brothers. È giusto far vedere che sennò sembra che... io c'ho la chiavettona, diciamo. Ma questa qui va nel Mac? Sì, 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 no, funziona. Ah, ok. Cos'è? Mac? Un po' particolare. Sì, a volte non vanno le attenzioni. No, il Mac non va nulla. Non si vuole contaminare col PC. No, eh, non si manca. Allora, intanto tu vai. Io faccio un brano, questo si chiama Long Time Gone. Non la faccio tutto, ovviamente, e fa così. Long Time Gone in the middle of a night and I told myself Hold up, I fart down, went in my gold time here Lost my mind in the middle of a night, I got lost in time Tears go by, I told myself I could die, be there Hold my head, then I pull my hair Cold drop, swag, I said my credit so bad Give me woman on the dollar, please Give me fist, not dollar, got a serious disease I need a woman Hey, hey I need a woman Whoa I say Hey Hey I say Hey Whoa I lost my mind in the middle of a day and I hope and pray I better stay Please let me stay I lost my mind in the middle of a breeze and I told myself I dropped the fear I got to the bottom of a bottle and I'm crazy, yeah I got no love, I don't need no more and I got so sore Give me woman on the dollar, please Give me fist, not dollar, got a serious disease I need a woman Yeah I need a woman Whoa Whoa Oh I say Hey 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 Oh 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 Baby please don't go Bella! Ma cosa devo copiare? C'è una chiavetta piena di 96 Eh no ma scusa ma te lo volevo indicare a mano Che cosa? Questo è l'audio? Sì esatto Cosa copio? Eh allora c'è il demo del 2015 che sarebbe questo qui E quello del 2016 Ok E pure Italian Experiment in verità Eh ok Non è troppo? No avete fatto dei videoclip? Sì ah c'è la video session Dov'è? Allora sono Official Videos Official Videos ok Fammi un altro pezzo al volo poi il resto poi me la guardo qui Ok Questo si chiama Hippie Life I got my head just on the beat Just sitting here right on the street They might be looking down on me On the streets Of course high on the abbess Real funky Welcome rock and bass Sì, 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 come back to me oh darling please come back to me we could be leaving and just letting off the beat I bet you don't know what you really need to do to me a bit of weight would be so good to keep it cool we're real cool hippies with that groove and hippie moves I think we should be like us people too I know you're hippie and your sister's hippie too come on hippie girl living a hippie life come on hippie girl living a happy life hippie girl living in a hippie world come on hippie girl all you're leading in a happy life everybody body come on a hippie girl living a hippie girl living in a hippie girl perché cantate in inglese e io ho vissuto tanto tempo in america e sempre a scuola in california e ora facevi e ho fatto la scuola ho fatto una parte della scuola in orange county ma quanti anni hai? io 28 però ho finito da un pezzo la scuola e che fai adesso? è musicista sono ben in italia e scrivo sto cercando di portare avanti la nostra band però scrivo in inglese ho fatto un paio di canzoni in italiano che ti ho anche passato si però principalmente scrivo in inglese perché vengo da diciamo da tutto questo trascorso in inglese americano musica ancora americana quindi mi viene molto naturale spontaneo scrivere in inglese però ho scritto anche alcune cose in italiano ma come fai l'emiter di musica? oggi è possibile beh noi suoniamo tantissimo noi siamo di base siamo stati molto tempo a Roma di base cioè Napoli è la mia città di origine ma ormai sto tra Milano e Roma e suoniamo tantissimo a Milano cioè suoniamo tipo 2-3 volte a settimana almeno sia con la band che acustici quindi diciamo per il momento certo non è che navighiamo nell'oro cover o anche? anche cover nei live ovviamente anche cover certo dagli anni sessanta e settanta in poi tutto pop rock anche funky mi si chiama l'hip hop ho visto che c'è una gloria ma è la gloria degli temi o è vostra? no no è originale ah è vostra quelli che sono lì sono originali ah ok no tra il insatisfeccio visto che ce la tengo un insatisfeccio ah si no è uno dai live uno non è neanche copiato non mi interessa no infatti infatti io poi mi ascolto anche un'altra cosa esatto grazie di essere venuto grazie ci vediamo sicuramente ok con questi general brothers grazie il cd è per te lo puoi ascoltare in macchina no 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 si si no no ma difatti il primo cd questo vostro questo è il primissimo lavoro il secondo andro su life il hippie life esatto always and we're friends always and we're friends poi c'è il secondo che è un è preprodotto che è quello che è del 2006 dovete fare dei video 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 clip ufficiali si ce ne sono tre video ufficiali che sono anche su youtube abbiamo vinto i global music awards in america con field magic che è anche sul cd e ti ho dato anche il video e lo trovi guarda sinceriamoci official videos field magic questo ha vinto anche abbiamo vinto il contest organizzato da virgin radio per il web marketing festival due mesi fa con questo originale ok video da vedere va bene grazie ancora grazie scusa ma no no anzi mi hanno ordinato di fare solo una grazie mi stanno svedendo le regole scappo ciao 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 grazie angelo